E salve a tutti amici di Skifront Arcovitalia, benvenuti in questo nuovo episodio della settimana E' uscito di martedì, essendo che l'altro video è uscito di venerdì, quindi il video mi esce di martedì Visto che sinceramente sono riuscito a registrarlo oggi che sarebbe l'undi per me Allora, questo è il nostro setup, quindi iniziamo con... Andiamo con solo un body armor, uno shotgun, colpi e questo zainetto che tanto non saprei dove infilarlo Perché questa zona mi serve E niente, abbiamo la chiave di factory, salewa e ce ne possiamo andare sempre su factory Perché stanno vendo dal video precedente, insomma, il gruppetto con cui gioco continua a dire Che i server continuano ad avere problemi, soprattutto su custom e woods Su factory non ho mai visto problemi, nella speranza di non trovarne Quindi niente, ci vediamo in gioco Ok, eccoci qua Allora, qui a destra ci sarà qualcuno Questa devo per forza fare così Io direi che me ne posso andare, tipo qua sotto non ho mai fatto questo giro Ok Qua ci potrebbe essere qualcuno Questo è uno spawn Gente che si sta picchiando con il coltello Qualcuno Lassopra Che poi è un po' un suicidio andare solo con il paca senza elmetto perché mi arriva un colpo in testa Addio paca Allora Però almeno se muoio non perdo l'elmetto E comunque l'elmetto è un pochettino più raro del paca Allora Ne voglio andare io qua sopra Comunque c'è stato un ride che avevo fatto con degli amici Che Era andato talmente bene Che quando sono arrivato ad estrarre Quando siamo entrati nella porta di barrel C'è stato uno con lo shotgun Ho ucciso entrambi E niente Io poi ho ucciso quello lì Sono andato per uscire dalla zona Da quella parte Con la chiave Ho aperto la porta E c'era un altro lì a camperare all'uscita Quindi Bella la gente che campera insomma E ovviamente non l'ho ucciso Perché chi cazzo se lo aspettavo Uno lì di nuovo Allora le opzioni sono due O campero qui Nell'attesa di vedere qualcuno E allora sono dentro Ok si sono lì dentro L'unica cosa che posso fare Ok si sparano Qui un punto un po' brutto Dove stare Decisamente Oh quanto laga quello Bene Non capisco se allora muore O fa finta Dio santo No 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 Non lagga Nessuno Ottimo Ottimo Questo significa L'agg assurdo Perché quello può continuare a colpirmi Ottimo Direi che me ne posso anche andare a estrarre Perché il gioco si sta un po' rompendo Dio Bene non saprei che dire Perché tanto continuo a fare così Quindi direi che vi lascio questo video Tanto per farvi capire un po' la situazione Del gioco Quindi se non escono video Sapete il perché Sicuramente uscirà un video delle news Però non saprei alla fine cosa metterci Di sottofondo Perché se va così Non registro nemmeno niente Per il sottofondo Quindi niente Io vi lascio Insomma vi faccio capire un po' Che sta andando male Perché se va male pure Su Su Factory Guardi che sta proprio andando male il gioco Quindi niente Io vi saluto Vi ringrazio per i 35 iscritti Soprattutto Continuate a lasciare like Commenti Siete fantastici Comunque vi ricordo che anche C'ho la pagina Facebook sotto Così Quando ci sono video Escono anche lì Magari Visto se non arrivano notifiche su YouTube Bla 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 Ci sono tutte lì Quindi io vi saluto Alla prossima Bye